Francesca, terza partita di Champions League, ultima del giro d'andata, se così possiamo dire, l'ultimo avversario, Baku, quello sulla carta un po' meno impegnativo, però forse per questo bisogna mettere ancora di più in campo il 100%. Sì, beh, come hai detto te, forse sulla carta è meno impegnativo, però invece è quello da sottovalutare di meno, anche perché non si conoscono molto bene le giocatrici, so che sono tutte molto giovani e molto promettenti con voglia di fare, e quindi da oggi siamo qua per studiarli e provare a fare una buona partita domani e andare avanti nel nostro percorso in Champions League. A differenza del campionato, qua c'è un primo posto nel girone da difendere. Esatto, insomma, guardiamo cosa dopo cosa. Domani c'è la Champions League, li stiamo andando molto bene, vogliamo continuare in questo cammino e come abbiamo sempre detto dobbiamo guardare, fare giorno dopo giorno e quindi oggi tocca preparare la partita di domani per provare a arrivare più avanti possibile. Cambia qualcosa magari anche a livello di morale avere questo vantaggio, comunque più tranquillità e non c'è da recuperare. Sì e no, nel senso ci guardiamo, ma pensiamo comunque sempre a noi, a provare a esprimere sempre un buon gioco e provare a portare a casa anche una vittoria, perché fa sempre morale e in questo momento ne abbiamo bisogno, soprattutto in prospettiva futura. Anche per lo scontro diretto sia in questo turno che nel prossimo delle due principali avversarie. Esatto, esatto, quindi uno sguardo sarà anche là, che secondo me sarà una partita molto interessante e però come ho detto prima dobbiamo provare sempre a guardare in casa nostra, perché insomma siamo un po' alti allenanti, abbiamo visto, alterniamo partite molto buone a prestazioni un po' così, quindi dobbiamo cercare di allenare, cercare di capire anche come mai ci succedono questi momenti, inserire giocatrici nuove, insomma, c'è sempre una nuova quest'anno, ma è il bello anche dello sport e noi siamo pronti a tutto.